Possiamo farla Premiamoci al massimo Ok la live è ritorna da sua eh? Si fa tutto da solo per fortuna Nooooo No vabbè Perfetto lo sto pingando io Vai Una volta per uno Lascia Ah ma troppo di Ma che Quessi sono malati o cosa? C'è veramente esagerati Dai raga facciamolo Raga sta piovendo te lo dico subito Penso alzarmi a vedere Non mi pare Ah ma è stato comunque un problema Vado io Vado io Alex ha detto che non sta piovendo Oh E' la tornavo della Eva C'è Oh la porca Eva ci sta Talla Eva C'è That all'eserci E' la tornavo E' la tornavo Ah Oh All'eserci La tornavo E' la tornavo E' la tornavo All'eserci E' la tornavo E' la tornavo guarda guarda sai cosa è che mi ha fatto il primo video sai cosa è che mi ha fatto il primo video tutti io voglio che qualcuno mi spiega perché cazzo si mettono le macchine standard con il nostro standard non è bella la macchina standard cioè non capisco a te solamente non piace si ma il nostro standard è stupido è bellissimo il nostro standard se lo smartphone non se ne facciamo niente e infatti ecco come dicevo se a uno gli piace la macchina standard la macchina va anche bene ma il nostro non è il nostro standard quello è il nostro lanciafiamme verde no non è il lanciafiamme quello standard no non è quello standard ah no quello là c'è il lanciafiamme verde ma uno c'hai quello standard magari non è standard è quello lì sì quello è standard vabbè è bello nel mondo non me lo dita se lo vedete non me lo dita non me lo dita non me lo dita non me lo dita platino 1 bella lì perché a noi non c'è carlo e perché ne avevo già fatta un'altra grande dai prima non abbiamo ancora un minima ma il mio green rosso quale ci sta è giusto Ah è buono Amore, non so, penso più di uno Te sì, mi so Almeno 4-5 Pure in 3-4-3 ho giocato Sì, ma dal passo in poi Il passo è l'altro giorno, ho cominciato Oh, attenti L'altro 3-4 giorni fa Vieni dai, vediamo di salire In fanculo Dai che sono divisa nel 3 Posso salire a Platano 2 A Platano 2 Vado Buono Rifato Sì, è bella lì Buona Eh, 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 come? Cazzo Ma perché sempre traversa? Porca cazzo giuda Sì, 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 in mezzo Torno in giro Instant Oddio Non cazzo giuda A Lo capisci o non lo capisci? Non deve stare là giù Allora dai Madonna, sempre in mezzo da lui che stiano la palla Intanto sono... Demonium Si roba si Annaggia Si va benissimo Vai vai insisti Vai che si incartato ha laggato Ha laggato lo stronzo dai Dai che il lag c'è anche per gli altri Ma il lag uno può laggare anche senza vincere no? Vabbè il lag è dovuto... Dipende si Allora no aspetta no Cia, si Certo Ah si? La cazzo mo Via Torno indietro Buonissimo Verda Pincio Pincio Quello non è un pincio E cos'è? E' un rimbalzo semplice Nooo porco tu Nooo No quello non è un pincio E qual'è il pincio? Però quello di prima lo era Quello no Il pincio è quando la vendi con la punta tipo Il pincio La palla quando fa il pincio si va Oltre all'altro mi sa che Va oltre ad una certa velocità specifica Ma il terreno la è un pincio Nooo Vabbè il hookseer è quello specifico proprio di fatto in un certo modo Però la tecnica in generale credo che c'è quella Se ho capito giusto Vabbè ok Hookseer è un All'adevatore Ah insia Ah porco Eh va bene Annaggia Di Pokémon Scusa Volevo Volevo Eh va La mia Eeeh La mia ancora Sii Cioè Te la metti in mezzo? No Volevo Oh no Siiii Se le tirato fuori da solo Che Un bambino Che Un bambino Che Un bambino Vai 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 Vola 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 Si si va benissimo Steffano Un contro tempo Volevo E va bene Vai, vai, vai Vabbè, ascoltami il dia Ok, ho cacciato, cacciato ragazzi, ragazzi Sì Cosa? Che culo Attenti, 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 via, via, via Ok Sì? Va bene No words, no words Ciao Attenti, 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 attenti Raga, raga, raga Signori No, che signori, vai Non si dice mai Signori E anche questa È andata Attenzione, tossico A quanto basta Sempre, sempre Sempre Ok Salgo divisione 4 No Attenzione, salgo in oro 3 Incredibile Oro 3 instant Buono, dai, sei un passo dal platino Ma che divisione? Good Eh, primo Visione? Oro 3 non dice la divisione, non lo so Sì, sì Sì, sì Come non lo dice? Non lo dice Sì, scendo subito, non ti preoccupare Sì, la divisione è zero, sicuramente Ma non lo so Sì, non lo conoscesse Platano 1, divisione Tarae Oro 3, anzi No, la vista nuova Oh, che bello il sole evapora Dietro, anche se Comunque non ho mischiato Sacco di cose Eh, vado io Vado io Oh, cazzo Sono esploso male Oh, che culo Bravi Merda Sì, ho trovato benissimo Ti ho rubato il nostro Non importa Torno, uno sul pallone Ci dono, ci dono, ci dono, ci dono L'ho parata L'ho parata Ce l'avrò sfiorata Eh, porco Sbattere No Ma fregato No 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 Sbattere Cosa Qualcuno Vado 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 Merda con quale velocità Cazzo Regalo Vai 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 da qui Uppala Cazzo è successo Ho sbattuto così la faccia Vai vai Sì E' bello che bello And Comincia tutto di qua Sposta l'avversario E' duck fire Incrediboll Con anche un piccolo aiuto dell'avversario stesso Non importa Pink bong pro si chiama quello Vado io vado io vado io vado io Vai 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 Rifallo? 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 Eh signori Oggi oggi si racca merda Guarda lì Oggi abbiamo sblocato Rackfire si è sblocato Si è diventa super power Daie daie Vado me vado me vado me Rackfire è super power Che è esploso Credo lui Ring veng dai attack Si La gang del bosco esplorò Si La gang del potazio Nooo ho sbagliato tutto nella mia vita Noo Ti prego non la cannaaa Non la toccata Non la toccata Ma ne ho sblocato sola No non la toccata Eh ma lui la Mi l'hai regalata Falle in avanti Non la fare rotola Rotata Falle in avanti Rotola Rotata Rotola Rotata Eh si mi sto buggando Mi devaro Attenti 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 Vai avanti che c'è il nostro Vai avanti che c'è il nostro Aiuto Che state facendo Va bene Robè va bene Non importa Sei zitto Basta che si va avanti Vado io ormai io Ecco te Rivado io se riesco E porca Mannaggia No 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 What the fuck Niente 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 Vai vai che la porta è vuota Chi la va Sì Vai 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 No, 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 no Ok, ma cosa ha fatto questo? Guarda, guarda Cioè, cosa cazzo facevo? Bravissimo Che puttana Eh, bravissimo, devi volare Tu, qualcuno Ma perché non salta a perca? Ok, vado Stai lì, stai lì, stai lì Aia Sì, ragazzi, ragazzi che torna Ancora, ancora l'assa Sbattila dentro, per fuori, l'arc-bayel Eh, lo faccio subito No, oddio Lascia, lascia, in mezzo Chi sono? Lo toccavo di sempre, rischio Tu, ah Ah, 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 ah Madonna mia, che cazzo è sta cosa? Che vuol dire? Sì, mi lasciano, magari Mi permettono di spingermi Occhio, occhio, che torna dietro la palla No, no, no No, no, rog-brendi, vede, vede No, oddio Giro Ah, c'ho sbagliato, l'ha pronto Sbagliatela E niente Cinculono, cinculono, cinculono Non fanno niente, non fanno niente Non fanno niente Vado io, vado io, vado io Vado io, vado io Vado io, vado io Vado io, vado io Ah, stai rimani su quella fascia Non ho sposo uno Ti prego vai? No 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 Ti prego vai? Ti prego vai L'hai visto? Incredibile oh Asa via già Ma che ovvio Ma c'è Roberto E' piccolamente la missata No bisco Allora come hai fatto a dire qualcuno Allora Mi ha prescato Ho visto poco poco loro tre E mo ti dico io che lo perdo All'istantemente pure Eh vabbè Divisione uno Divisione uno Ok allora aspetta aspetta Non cercare che stai conosciuto Allora puoi vedere che Mi sono fatto qualche ricompensa Sì 15 pap Le palle Perché sei uscito? Dovino C'è cresciato? Mh mh Però ammetto dai E' vero Bene D'acqua C'è D'acqua Che Bellissima la traccia del livello 48 Traccia Qual è la canzone che mi piace da testa? Solar Eclipse Scegli a club diventare il giocatore No, a me solo 6 me ne dava disponibili Ma io lo so, facciamo gli altri che comincio col pass E anche senza in realtà livello C'è quella lì tipo Questa è bella La quella del 48 è bella Oh, ginger is... ah no, underpass Ma tu non hai niente da spacchettare? Vorrei non avete niente da spacchettare, è possibile? No Boh Tu non hai deciso tutte queste canzoni Eccolo 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 dubb e nico la pd visto posto secondo paccare provo a spruzzo a parte un paio forse le ruote e ci sono di nuovo per il terreno mi ricordavo male il terreno va a tempo di musica il terreno solamente si tutto tutto si tu vai nel menù principale i palloncini le cose e anche i palloncini fanno un saltello sul ritmo più sul beat più forte si 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 stai ti ho invitato si non ok dai 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 there's a che guardare il terreno leégio il recuperare il è il달�UZ cercando beh quanti ne mancano stefano quanto credi prima non so se li ha calcolato ma come no era finito e crashato ma cresciato alla fine c'è alla fine in due stu giocando no no all'inizio abbiamo ancora la cosa cercata mi pare allora sì allora era già finita quella sì sì noi infatti non è mia anche questi forse eccolo no sì bello bello cazzo dai 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 voglio rossi con le sette gradi ci sono sette pochi sono c'è tanti sono rispetto a no nooo se ne caldo stu pericolo c'è un glace amato a me come in dai 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 come a porc pecan den va bene va bene va bene va bene ehh merda adesso ho già il controllo come cazzo l'ha alzato questo qua? no ci siamo scontrati non è il nostro no vabbè ma è culo ma è culo che semplicità però io prima donna mb oh castrotoxic vai buona no ma la po ma la po eri tu che stavi dietro e annaggia miseria puttana di dio no no dai porco 2 così no pensavo che la prendevi stai ma no stiamo missando stronzate eh uno ciascuno l'abbiamo fatto te due ci mette una pezza e ci mette una pezzetta due due però due gold in merda abbiamo preso ovviamente che azione coreografia di parade annaggia tu ad arc sempre ah ok questa palla è insidiosa prendita per favore non riesco a prendere l'altro e allora non ti partire proprio perchè altrimenti è un uomo in meno porco 2 perchè abbiamo preso 3 gold di merda la prova no grazie a me che dai il follow stiamo facendo uno schifo dai è una merda questa partita è una merda prima vado io dai 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 che ce le mettono loro ti parla di magari una volta ah ti pare ti pare vai star nooo nooo la faccia oddio raggia però oh è una speciale pg 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 è stato divato io dai che questi attaccano tutti è un peccato proprio perdere contro questi la giubbiazzata eh buono un po' di culo 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 niente no 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 raga ma perchè stiamo uscendo oh raga davvero c'è oggi boh sta partita più che altro dietro che li abbiamo che cazzo cazzo abbiamo preso che combino merda porca puttana oh vado io e che cazzo questo vado oh avete altri colpioni però cioè non fanno una merda non fanno dai ma perchè tu ma vaffa culo addio di cristo vado va bene va bene ma vaffa va fennec due a seana stupide o merda o merda o gastro ma dimi gastro eh niente vabbè no 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 facciamo un cazzo più 3 gol in un minuto dai no vedi tante cose che fanno loro e sono veramente il gb eh mi piace la live in chieda di un minuto si ma sta succedendo qualcosa secondo me cioè a me pure mi sta bloccando il telefono penso ci saranno bene connessione sicuro infatti mi sa che me lo stacco che cazzo devo fare cosa c'è vai 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 no non so che sta succedendo se un giorno guarda qui vai che entra vai che entra vai che entra che poi cioè quella la stanno prendendo tutti la stanno prendendo non che li ben no ci ora non ma ma ben 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi qua erano campioni, eh? Sì, ma abbiamo perso solo per la porta, dai. Divisione 3! Minchia, io sono sceso. Platino 1, divisione 2. Divisione 3 mi ha fatto scendere! Ma come? Ma vaffanculo però, dai. Oh, ditemi se sta cominciando, eh? Sta cominciando, sta cominciando. Vabbè. Devo fare uno speed test. Nooo. Devo fare. Non so che ho manco di usciare il naso, uno. Comunque, non ci stiamo chiamando le palle più, non stiamo più in porta, quello. No, no. Ce le stiamo cercando, secondo me, un po'. Nooo, dai. Non stavo giocando. Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Allora, esco, esco io, esco io, esco io, esco io. Minchia! Bella. Duckfire is back! Caputtana, però. Ah, con un saltello easy peasy, le mosquiti ne salta due otarae. E vostra. Vai io. Vado io, vado io, vado io. Vai io. Va bene. Deve essere un vado. Inequivocabile. Eeeh! Mi sto inquadrando, mi sto inquadrando. Penso io. La vada che dà, vrò. Vado. Vai, vai, vai. Ci sei ancora, ci sei ancora. Porta, 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 porta. Sì, dica di nos. È saltato. Mia. Occhio, occhio, occhio. Stai, 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 stai. Puttana avanti, puttana avanti, puttana avanti. Ah, lo stupido. Anticipalo. Vado di quasi sicuro là. È cato. Ok. Vai, 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 vai. Grande. Madonna mia. La dice grande, però. Non la mi ti importa. No, tranquillo. Porco di... È grandissimo. Mamma mia, l'ho cacciata da dentro, proprio. È grandissimo. Ma quando dici che era entrata, proprio, mancavano due millimetri. Scusa. Io non c'ho più il nostro. Cazzo, caricati. Dai, muo, muo. No. Questa palla, te mongo. Ok. Vai, 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 vai. Adesso, vai adesso. Non dirò, non dirò, non dirò, non dirò. Non dirò. E poi... Ma no. Ma porco, e poi... E no. Prendi la tua, lascia. Non dirò di un video, porco. Va bene. Ancora non ho detto, lascia le tue vissate. Non è vero. Mannaggia Cristina Ok La prende Ok Ok No Cazzo Dio Merda Non ce la fanno, non ce la fanno Una, 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 una dietro, una dire avanti Io sto avanti No, no, no No No, ragazzi, ho detto sto Quanto alo, po' a sta pronta Io stavo dietro, ma stavo c'è Ma che cazzo di sfondo alo, voglio anch'io l'ufo Ma perchè c'ho tutta sto vado a sfrar Stavo io Stavo in meb Ma di qua, non di qua Oh E fallo Si Capri, 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 capri Sto arrivando, arrivando, arrivando Ah, vaffanculo Cazzo 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 No, comunque sto Chiaramente perdendo frame Non so che sta succedendo Come? Sto perdendo frame Sto scendo, non so Sto facendo qualche cosa Sto un sacco di alert Vado io Di stream Oh, raga, vado io La pa... Non so, ho visto fuori dalla scia Non stavo capendo E niente Su, preventi Preventi Vai tu, Darko Adesso è partita oggi, supplementare Che ovviamente Che ovviamente vinceremo Esatto Vado, 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 vado Mi sta f***